Quando il tempo è così uggioso e i giorni sono corti, gioca online coi tuoi amici all'assalto dei non morti. I morti risorgono, i sepolcri sono vuoti, da Kud's Chapel a Tumbleweed ai cimiteri più remoti. L'infezione si propaga per tutta la frontiera, scegli bene la tua arma, la tua sola consigliera. Saccheggiabare per trovare nuovi armamenti, ma il tuo fato è ormai deciso, devi arrenderti agli eventi. Li hai fatti fuori tutti, ah che conforto, ma altri sono risorti, presto o tardi sarai morto. Le orde demoniache arrivano ad ondate, in vero il tempo è poco, respingili ammazzate. Quando gli zombie ti travolgono e manca molto poco, usa proiettili al fosforo e finisci lì nel fuoco. I tuoi amici sono caduti, sei rimasto solo ormai. Io mi chiedo, quanto a lungo ancora vivo rimarrai? Allora si! Allora si! Allora si! Allora si! Grazie a tutti